Un grandissimo esordio, quello dell'11 maggio prossimo, l'inizio di un trittico che coinvolgerà tutto il territorio, Gorizia e Nova Gorizia, dal maggio di quest'anno fino a novembre del prossimo anno. Ci sarà un teatro, podcast, programmi radiofonici, coinvolgeremo le scuole, di tutto e di più un bellissimo modo, peraltro l'11 maggio, presento l'invito, l'11 maggio con grandissimo Natalino Balassi, un comico eccezionale, cercheremo anche di avvicinare alla storia del nostro territorio, perciò alla Mitteleuropa, anche un pubblico magari non avvezzo al teatro. Abbiamo davvero tanto sul fuoco ed è un piacere perché cominciamo con questo, davvero siamo nel pieno della capitale europea della cultura, correndo verso l'8 febbraio del prossimo anno. Io sono molto contento, ringrazio il comune di Gorizia che siamo qui a far debuttare un grandissimo romanzo che è la cripta di Cappuccini di Roth, che attraverso storie apparentemente private, di amori, gelosie, delusioni, truffatori, furbastri, figure impreviste, però ci racconta veramente quello che è stato un mondo, un mondo che per Roth era il tramonto ma che dal mio punto di vista invece è l'inizio di una grande storia che arriva fino a noi, quindi è l'inizio di una trilogia, questo la cripta di Cappuccini e che ci permette di vedere come, cosa è stata la cultura plurisecolare, la vita plurisecolare di queste nostre terre di confine e di questa nostra identità di confine che il Novecento ha provato a cambiare ma poi alla fine della fiera siamo inabili alla morte e quindi siamo ancora qua.